Un pochettino sotto tempo e dopo ci arriviamo. 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 Adesso lo proviamo perché è bello avere questa differenza tra il piano qui e un mezzo… Ecco, lo possiamo ovviamente fare nella seconda parte. Infatti qui ci sono questi magnifici cori inglesi che qui veramente cantano quasi sottovole. Sei prima di tanto. Enzio, come sono i bordi? Stiamo suonando un pochettino più piano. Bellissimo il colore, quasi perfetto all'amalgama, senza rischiare se potete suonare un filo meno. Ho bisogno del vostro colore, ma con questo timbro che abbiamo era un filino troppo. Andiamo direttamente da qua. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.